30 novembre giornata mondiale città per la vita cities for life è un avvenimento mondiale annuale che ricorre ogni anniversario della prima abolizione della pena di morte in uno stato europeo era il 1786 il granduca di toscana pietro leopoldo firmò il codice preparato dal giurista pompeo neri e il granducato divenne così il primo territorio che ha abolito la pena capitale la manifestazione è stata ideata e promossa nel 2002 a roma dalla comunità di sant'egidio vi aderiscono migliaia di città soprattutto europee ed americane ognuna delle quali in questo giorno illumina il suo monumento più importante ne esempio il colosseo luogo simbolo di sangue e martirio per 24 ore l'anno diviene logo dell'impegno per un mondo senza pena di morte molte le organizzazioni che promuovono l'iniziativa altrettanti testimonial dello spettacolo dello sport della cultura e della politica per non dimenticare che ancora oggi ci sono stati nel mondo che mantengono questa forma di crudele punizione cities for life costituisce un originale mobilitazione planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia capace di rinunciare in maniera definitiva alla pena capitale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti